La partenza con la pole position della Mercedes che va subito a chiudere la porta in faccia alla Lamborghini di casa imperiale con l'attacco però delle Ferrari in curva 1 riescono a mettere in scacco l'alfiere di Luzic, il portacolore di casa imperiale, un po' di bagarre nelle retrovie col contatto subito tra Brokers e Serra che favorisce il passaggio di Pierguidi con anche Fran Roeda aggressivo Questo invece il colpo di scena nella classe AM che mette fuori la Lamborghini e la BMW spesso protagoniste sul podio, la safety car chiamata per questo contatto tra Stefano Costantini e la BMW del team Oliump deve essere ripulita la pista con anche Giuseppe Cipriani che va a tamponare un avversario alla ripartenza purtroppo fuori dai giochi la Ferrari di Daniele Diamato con anche la vettura di casa Rinaldi che finisce in testa coda, evita clamorosamente il contatto Michele Rugolo qui il sorpasso di Raffaele Giamaria galvanizzato al restart con i migliori pneumatici a disposizione per lui il sorpasso ai danni invece di Liang da parte di Damiano Fioravanti che riscatta così una difficile forza nella giornata di ieri tenendo alle sue spalle Geron Moule l'onboard della Mercedes di Baptista che viene superato dalla Ferrari di West il confronto che mette fuori in base dalla lotta per la top 5 Alex Liang passa la BMW clamorosamente dunque sesta sul traguardo e la prima vittoria in stagione per Marcelo Anne ed Alan Codair nella classifica assoluta davanti alla Lamborghini di Riccardo Agostini un ottimo risultato per la Huracan GT3 che porta addirittura quattro vetture nella top 5 Grazie a tutti Grazie a tutti